A partire, io mi porto il ricordo, da mia casa e laggiù, e il mio cuore sta qui, come il sole per me, e non vorrei, lo sai, lasciarti mai perché. Ogni volta che devo lasciarti, sempre ho tanta tristezza nel cuore, e mi resta soltanto la gioia, di pensare che mi tornerò. Ogni volta che devo lasciarti, sempre ho tanta tristezza nel cuore, e mi resta soltanto la gioia, di pensare che mi tornerò. La mia casa è laggiù, ma il mio cuore sta qui, come il sole per me, e non vorrei, lo sai, lasciarti mai perché. Ogni volta che devo lasciarti, sempre ho tanta tristezza nel cuore, e mi resta soltanto la gioia, di pensare che mi tornerò. Di pensare che mi tornerò. Di pensare che mi tornerò. Tutto per la scelta della cartonia, allegra e significativa. Perché pedigliano, è pedigliano. Ma, ma, sì. È successo noi. Sì, però non è stato il genere, ma tutti in conto è il palazzo, tutta la palazzo è il palazzo. È successo noi. Ah no, ancora si scioglie. Lasciate la parte. Ancora si scioglie. No. Ci manca l'upe. È stata riaccapita. Ancora si scioglie la parte alla strada. Allora, mentre si scioglie la parte alla strada. Guardi, facciamoci i cattori, facciamoci i cattori, ma è stato il sbagliato del gattolo. Cioè, ma io ho alla fine. Sì. Sto spedendo, fra. Facciamoci i cattori. No, io ho modo di dire questo. Tu e me. Sto a me. No, non ci stavo. Ma no. Non ci stavo. La cantina. No, non le andava a cantare. Diceva. Eh, beh. Ma il interviso ci vorrei. Allora, allora vai a... Ma no, mi paghi per un'animazione? Dici che fa una salata. Ma tu avresti capite niente, allora hai capito che capite niente? Ah, ah, smontate. Ah, ah, smonte. Cioè, io sono chiamata a te per la mia animazione. E tu sei spinto, è solo tu. Se tu vuoi parlare qui, ci sono portato il microfono, infatti, l'animazione è paghi. Quanta finta? Non lo vuoi avvenire, perché avremo paghi l'affitto del microfono. Oh, no, no. Eh, allora. No, tu non vuoi il microfono, l'idea da quando ti voglio un microfono. No, tu non vuoi.